Abitualmente le stanze dell'ospedale sono tutte uguali, impersonali, bianche, sterili, anonime. Le hanno trasformate in una stranza dove c'è un'atmosfera di accoglienza, di ascolto. La stanza del fumo dell'ospedale Santa Maria della Gruccia custodisce così le storie della psichiatria. Sono stati infatti l'arte, il colore, l'espressione non verbale, il filo conduttore della giornata mondiale della salute mentale realizzata dall'Asla Toscana Sudessa con il centro Basaglia di Arezzo e con il patrocinio della conferenza dei sindaci del Val d'Arno. Spesso ovviamente l'interlocuzione è con le figure professionali che svolgono veramente un servizio appassionato di qualità e competenza ma sentire direttamente dai disegni, dalle voci, dalle scritte dei pazienti, cioè di coloro che vivono il servizio perché ne hanno una necessità, un bisogno, colpisce in maniera particolare, fa capire tantissime cose che magari possono sfuggire e spero che questa iniziativa possa trovare anche contesti più ampi perché c'è bisogno di solidarizzare e di creare empatia perché poi tutte le istituzioni e i soggetti competenti si mettano maggiormente in moto per dare delle risposte. Nel corso degli anni le persone ricoverate in psichiatria hanno riportato sulle pareti le loro emozioni e i loro vissuti attraverso riflessioni, disegni e poesie dando vita alla stanza tatuata che adesso invita all'ascolto delle parole di sofferenza la salute mentale si esplica e si muove all'interno della comunità quindi un buon modo per uscire dalla sofferenza mentale è quello di riconoscere che intanto i pazienti sono delle risorse e non sono soltanto portatori di sintomi o deficit ma che al contrario hanno molto da insegnarci.